sono diventato gandalfi bianco con tutto questo riflesso sono andato al cinema un paio di giorni fa non sono un tipo di chi fa spesso e prima del film avevano proiettato il trailer del viaggio di arlo non so in inglese si chiama the good dinosaur in italiano non hanno chiamato il viaggio di arlo deve essere il prossimo film della pixar faccio questo breve video per dire che mi ha colpito molto perché era abbastanza breve come trailer ma può darsi che ce ne siano altre può darsi che mi sbaglio ma quello che hanno mostrato era completamente muto non si parlava erano solo immagini al suono semplicemente non c'erano dialoghi o parole per così dire mi ha ricordato molto per come l'ho visto il trailer di wally di quando lo vidi ai tempi di non chissà quanto tempo fa è uscito perché io wally andai a vederlo senza sapere che cavolo di film sarebbe stato sapevo solo che c'era questo robottino di nome wally che faceva cubi di spazzatura che ad un certo punto arrivava un'astronave e finita lì il trailer non faceva sapere di più e nemmeno io volevo sapere di più volevo andare al cinema se inizia a saperne troppo solo per sapere un po' l'idea generale e dal trailer di wally si vedeva benissimo che la qualità almeno lì nelle scene ambientate sulla terra era stratosferica per così dire cioè sembrava davvero che wally per quanto fosse digitale stesse davvero in un set realistico per come era il risultato la polvere l'immondizia il dettaglio i grattacieli di cubi di spazzatura i colori l'atmosfera però però sembrava davvero un set reale e si vedeva che era accuratissimo nel dettaglio era fantastico infatti nella parte dell'astronave poi tenendo il film un po meno è tutto molto più in stile pixar anche gli umani sono classici pupazzoni della pixar invece sulla terra proprio tutto quanto era davvero fotorealistico si dice insomma lo stesso nel viaggio di arlo a parte arlo il protagonista il dinosauro e l'altro bambino che sta con lui questo bambino cavernicolo insomma che è tipo un animaletto da come si capisce loro sono comunque fatti in stile pixar fatti proprio un po caricaturali insomma eccetera però tutta l'ambientazione che veniva mostrata nel trailer e le foreste i prati l'erba le rocce adesso non mi tutto quanto però anche le scene in cui si vedevano da vicino i personaggi vedevi un dettaglio incredibile ho detto wow cioè per solo quella con la musica che l'accompagnava e le scene che venivano mostrate mi ha messo i brividi insomma la pelle d'occa ho detto wow voglio vedere questo film in assoluto non so molto infatti di cesso solo che semplicemente c'è questo per un dinosauro di nomearlo c'è incontra questo bambino cavernicolo vengono mostrati altri dinosauri come un trecerato poi quello con la cresta gigante dietro il bivoro con il corno sul naso dei dinosauri carnivori tiranosauri o quello che insomma quello che sono mi pareva di aver visto un trailer in cui parlavano almeno i dinosauri carnivori parlavano e non erano nemmeno malvagi erano semplicemente dei brutti però non dei nemici insomma non so se dopo parleranno o meno se magari sia un film muto o quasi muto come è stato wally almeno nella prima parte e se poi diventerà un film parlato quando incontreranno altri dinosauri eccetera potrebbe anche essere mi ricorda tanto wally e wally è stato un grandissimo film della pixar se lo fanno simile o comunque lo impostano in maniera uguale io sono davvero molto felice sto guardando wally perché l'ha un modellino di wally vabbè questo qua si l'avevo là e lo guardavo mentre parlavo eh dicevo non so adesso quando uscirà ma comunque a breve non tanto lontano nel tempo sono davvero curioso di andare a vederlo sono davvero curioso di sapere che film sarà poi mi piace che la film faccia che la film mi piace che la pixar faccia un film a tema dei dinosauri mi sembra un po' strana la collocazione di un essere umano con i dinosauri ma vabbè la pixar può fare un po' quel cavolo che gli pare comunque ancora sono davvero rimasto colpito e consiglio un po' a tutti quelli che vedono questo mio video di andarsi a vedere il trailer di cercarlo al limite provo a metterlo in descrizione se la trovo penso di sì non so questo mi ricordo davanti tanto i wally come impostazione anche perché comunque arlo dovrebbe essere un dinosauro l'altro è un cavernicolo è un bambino cavernicolo c'è proprio quasi neonato quindi non penso che sappia chissà quanto granché parlare potrebbe essere un po' la stessa scena che c'era con wally e eve cioè un dialogo a stenti insomma di direttiva terra pianta eccetera che non si limita a chissà quelle granché di conversazione sono molto gasato sono molto contento di questa scelta di questa presentazione del trailer che non fa cioè fa intendere cosa sarà il film ma non fa intendere di più ti lascia la voglia di andare a vederlo e quello come diceva mi pare o victor lazolo 88 o matti oski degli youtuber che seguo dovrebbe essere un trailer che ti fa venire la voglia ma che non ti dice cosa sarà il film e dico cioè quale sarà la terama eccetera lo vai a scoprire tu andando a vedere il film basta questo sono curioso di vederlo magari una volta che l'ho fatto visto dire un po' cosa ne è stato cosa ne è parso eccetera mi farebbe piacere non vedo l'ora e se non lo conoscete vi consiglio di andare a vederlo rifletto guardate il trailer se ve lo metto sotto e basta ci si vede al prossimo video piccolo ps ringrazio personalmente tu che stai guardando questo video perché mi fa piacere che comunque la gente mi veda se dopo ti fa di parlarne ci sono sempre i commenti di youtube però la gente dopo mi scrive sempre in privato è uguale se volete parlarvi fatelo tranquillamente che sono contento di discutere mi fa piacere tanto piacere